Heyo what's good everyone benvenuti nel mio canale questo Mauro che vi parla e oggi andiamo a reagire al nuovo video che ha appena droppato ton Gico di un nuovo format che sicuramente ci spaccherà di brutto eh sicuramente ci spaccherà di brutto questo nuovo format e voglio scusarmi raga per questa settimana sono stato davvero impegnato purtroppo non ho avuto il tempo di fare tutti i video che faccio al solito però dalla prossima settimana sarò più tranquillo quindi vi riporto tutto quanto adesso vediamo non sono sicuro che oggi riesco a portarvi la reazione alle vostre canzoni probabilmente la porterò domani se no lunedì ma comunque non vi preoccupate la prossima settimana torniamo a farlo ogni venerdì e soprattutto controllate anche la mia pagina di Patreon patreon.com slash rap con Mauro a partire da prezzi vantaggiosissimi solo 2 euro 2 euro al mese soltanto il prezzo di una canzone al bar caricherò tantissime canzoni underground caricherò anche tutti i video che vengono bloccati qui su youtube quindi li potrete vedere soltanto in anteprima su Patreon finché non verranno sbloccati e che altro sì per la serie quella lì delle reazioni delle vostre canzoni a 5 euro al mese potrete richiedere le reaction avete più vantaggi nel richiedere le reaction e soprattutto funzionerà anche da salta fila la vostra canzone sarà tra le prime che reagirò ci sarà incluso quando reagirò settimanalmente alle vostre canzoni questo cercavo di dirvi poi ci sono tears più alti però non sto a spiegarveli comunque se andate nella pagina troverete tutto quanto però sì parte da 2 euro e adesso sono stato occupato come vi ho detto quindi ci sono pochissimi video però molto presto caricherò tanti pezzi quelli che magari non interessano non lo so magari non interessano tantissimi però c'è comunque quella nicchia che interessa tipo l'underground l'old school andrò a caricarli tutti lì ad un prezzo vantaggioso quello che vi cerco di dire niente ragazzi ci siamo dilungati troppo andiamo subito a spaccarci con questo video di Don Gico forza Ciao Ok 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 E' yo what up guys qui è Don Gico sono qui in compagnia di Billy De Bullet di Italian Pop Smoke sapete un po' com'è la questione E' yo Fi Drop a questo boards Mamma mia Mamma mia Mikasa 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 Questo tipo di video Mamma mia Mikasa Mikasa Qua ci fermerà Prendiamo il volo Fra level up Sogno l'american Resta come Chris Kyle Topo lo sky Tiro pugni dritti Kimbo slice Fumo ice Nella notte bye bye Adesso sinistro cannera Futa forza sulla terra Porto in alto la bandiera Chi ora porta pace mandela Chi parla viene Spetto candela Non torni a casa come in favela Adosso Nike No margela Fumo flu come una band Impara bene dalla gente vera Se parli di me devi urlare Anzi Ajax Se accendo il motore Frittello di muorgo Come 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 Accellerando toccherò quella Come 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 Allacciando la cintura che Abba mia Bad63 E questo è il suono dello Bentley E questo è il suono dello Bentley E molto presto andremo ancora a reagire A molti in Italia sanno rappare Me ne avete richiesti tantissimi Come avevo già detto prima Purtroppo non ho avuto troppo tempo Ma dalla prossima settimana sono più libero Vi porterò tantissime reaction Quindi non vi preoccupate Ricordatevi di iscrivervi al canale Lasciare like a tutti i video Commentare qui sotto E ricordarvi soprattutto Di mandarvi le vostre canzoni su Instagram Che ci faccio le reaction settimanalmente Però abbiamo finito Qui raga vi auguro una buona domenica Ci vediamo alla prossima Bella